Ciao bimbi! Ho appena ascoltato la storia che vi ha raccontato la maestra Silvia, la corsa della lumaca. E mentre l'ascoltavo avevo qua di fianco a me dei pennarelli, dei cartoncini e quindi ho disegnato una lumaca. Una lumaca gialla e rossa. Fatevela disegnare anche voi, o col cartoncino, o direttamente sul foglio, o stampatela. Ma bella grande, eh! Poi per farla diventare ancora più bella ho preso una cannuccia e ho fatto le antenne. Ho preso un po' di pasta e l'ho incollata qui sparsa sul guscio. Poi uno spago bello lungo e anche questo l'ho incollato sempre qui. Perché mi è venuta voglia di fare quell'attività che facciamo spesso all'asilo. Vi ricordate quando prendiamo un filo e ci infiliamo la pasta? Oppure quando realizziamo le nostre collane colorate? Quelle collane bellissime dove prendiamo le perle e le infiliamo nel filo. Ve lo ricordate? E allora io voglio realizzare così la mia lumaca. Inizio! Ecco qui la mia lumaca! E ora bimbi concentratevi e fatela voi! Ciao!